bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di x e max 11 oggi andiamo a vedere nel dettaglio la missione infliggi danni con le palle di un chopper detto ciò partiamo let's go scendiamo qui alla stark industry in maniera prepotentissima con il nostro daredevil sperando di arrivare prima di altri player di prendere l'elicottero e provare a fare questa missione nel più breve tempo possibile ovviamente ragazzi non dovremmo buttarci sopra un player perché dobbiamo prenderlo con le palle detto ciò il il mio consiglio è quello di provare a trovare un player in qualche montagna anche perché sennò ci viene estremamente difficile ragazze ci leghiamo in qualche montagnetta ovviamente ragazzi dobbiamo stare in alto per vedere se troviamo qualche player che ci permetterà di fare questa missione ok la missione è stata fatta ragazzi perché abbiamo sbattuto con le nostre palle detto ciò ragazzi vi invito sempre a lasciare un bel like e iscrivervi al canale ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video